Ciao a tutti, allora innanzitutto grazie per i tantissimi messaggi che mi avete mandato sui social, sul telefono e ovunque. Sto benissimo, sta benissimo anche Alessandro Benvenuti. Ci hanno tirato questo sasso sull'autostrada da un cavalcavia. Io non volevo sinceramente spargere questa notizia proprio perché questi delinquentelli criminali da strapazzo che secondo me sono pure contenti di sapere che hanno colpito un bersaglio mediaticamente più importante per loro perché se ne parla di più magari, quindi non avrei detto niente a nessuno ma siccome qualcuno in Autogrill ha diramato la notizia, qualche giornalista e poi da lì è volata su tutti quanti i giornali del mondo molte persone si sono preoccupate anche più del dovuto, questo è il motivo per cui non volevo neanche dire niente. Io ecco, volevo sincerarvi del fatto che stiamo benissimo se io e Alessandro, ci siamo solo molto spaventati ci sono danni alla macchina ma chi se ne frega.